Ed eccoci finalmente a casa, nella nostra casa dolce casa Eh, vedo che hai già messo tutto quello che abbiamo qua, perfetto Oh sì, tutto tutto Boh, prendiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, che è tutto in questa cesta qua, fondamentalmente Ah beh, giusto però, aspetta, spieghiamo come la storia Giustamente, giustamente Sì, abbiamo osservato in sintesi che questa casa non è fra le più comode da raggiungere, ecco In sintesi è questa la situazione Quindi cambiamo casa Esattamente, in parole povere abbiamo convenuto di cambiare casa, tutto qua Quindi spostiamo tutti i nostri averi Tu prendi, sì, non prendiamo, dividiamo in due diamanti che se muoio io almeno hai i tuoi Ok, poi sì Tutto il resto, ah no, anche il cibo, dividiamolo in due che potrebbe servire Tac Sì voi, se mi zucca mi hanno detto che facciamo anche meno Ma no dai, poverino Un po' di cacca, un po' di pietrisco ci vuole Uff, fai il serio È una crafting table schifo qua, serve sempre E le ceste Se avessi un ascia Le ceste le prendi tu, io non ce le faccio prendere, io sono pieno Ah va bene Aspetta Se avessi un ascia sarebbe tutto molto più semplice Che meno così non evito più di cadere, di ammazzarmi in maniera diciamo molto splat Ecco Non è divertente Dunque, guarda, seguiamo le bussole e vediamo lo spawn point, il primissimo di questo server dove ci conduce più o meno, giusto? Va bene Anche perché se no dobbiamo stare lì di nuovo con letti e non letti, almeno abbiamo uno spawn fisso che è più comodo Sì, decisamente meglio Sperando di non crepare nel viaggio perché usciranno anche mostro La vedo tu, eh, la vedo Eh, ma spero non sia lunga No, boh, non è lunga la strada, è qua di fianco, bene male, però È la noia Allora, andiamo Ti gioco comunque, mai più questa è una casa in una giungla, la sto diando Mai più, ma assolutamente mai più, cioè È una cosa, non è scomoda di più Dà più fastidio che altro questo posto Vai giù, vai giù Insali su a caso poi Le liane, ragazzi, le liane Ma guarda, l'unica cosa bella è che ci sono tanti gatti qui in mezzo Sì Cucciolo Sì, ok, tanto non abbiamo pesce Aspetta, ci guami un attimo Oh, cioè, beh, la prossima cosa che dobbiamo fare è che io almeno mi faccia una canna da pesca che mi voglio fare Io mi faccio, ah, gli archi ecco, dobbiamo anche, oh, quante cose che dobbiamo fare, cavolo Abbiamo anche gli archi Oggi sei brava per scaricare, guanda, su minecraft, che dici? Oh, io devi, con la bussola Con la bussola Ok Vabbè Ah sì, ok, casa mezza distrutta Approfitto per prendere velocemente il grano che c'è Perché il pane, dopo però, nei prossimi episodi, non subito sicuramente perché mi servono No, Dave, guardalo Cosa? Bambino, osservalo, fissalo È orribile, cioè, non ha senso È un nano bastardo, guardalo Guardalo È una cosa oscena Dove scappa? Guarda, io lo seguo È una cosa oscena, stare sul tetto Guardalo, guardalo Chi è ora? Guardalo È caduto scena Ok Un pover ranger, questo qua, guanda Si sono incastrati Guarda, i due bambini bastardi incastrati Non ha senso No, questo qui è un adulto, questo No, due adulti incastrati Ma guardali Ma no, ti giuro, non mi sono simpatici, oh Scusa, oddio Oh mamma Cosa? No, no, niente, va tutto bene, non è colpa tua Allora Aiutami a prendere un po' di questo grano, guanda È molto... Eh, ma non ho posto, Dave, sono... Ah, giusto Ho un inventario pieno, io Faccio io, faccio io No problem Stay calm down So Yes, we can Weekend? Magari weekend Yeah Allora Ah, manca... Ah sì, questi qua si sono evoluti Hanno fatto anche le zattere con super al grano Hai visto? Oh, tanta roba Oh Sì Guarda un altro nani bastardi Ti segui Dovemmo farci tipo un episodio, no? Alla ricerca dei nani bastardi Guardali Deve morire lei Guarda che non muore Sì, stai zitto Guarda, poi vuole Gli dai un pugno Vola via Vola Matteo Guarda che arrivano i golem e ti distruggono la faccia No, no Poi non muore Cioè, è una resistenza inaudita Ok, è morto È un bambino prodigio Questo no È un nano bastardo Non è un bambino Smettila Basto Ma scusa Non riesco a distruggere il grano in maniera Cosa fai? Ti do una mano al faccato No Right Ok È tutto È tutto, ne? È ok? Sì, buono Anche se non è tutto Che poi, dicevo, nei prossimi episodi Non subito perché non abbiamo abbastanza risorse Costruirò una Fabbrica di grano Automatica Mediante bad switch Vi spiegherò Verrò anche un tutorial sull'argomento Prima o poi Quindi non disperate, ecco Così almeno Il cibo ce l'abbiamo, Wanda Ok E almeno quello Un problema è risolto Sì, sì Tempo di Accumulare Redstone Stone Oro E quelle cose che servono un po' Per lavorare con la redstone E ce la facciamo Cioè, ce la faccio Perché Vabbè Per dire che comunque Ne abbiamo una di oro Cioè Sì, ma Guarda Non penso che possiamo Cioè, che possiamo permetterci subito Tantissime torce Costa abbastanza risorse Perché ho in mente Tantissimi progetti Per questa casa Diciamo Ho in mente Trappole Ho in mente Cose sofisticate Ecco Cose Che hanno un'applicazione Cioè, da sai che Diventa inespugnabile È una fortezza Inespugnabile Una fortezza inespugnabile Mai però la fu più azzeccata Guarda Scusami Mi diverto tantissimo a farlo Grazie Cosa stai facendo? Sfido la forza di gravità di questo gioco Ok Ok, dove sei? Ah, ok Oh, cioè Questo qui Il villaggio dove eravamo prima Sì Vabbè Stiamo girando in tondo Sì, è questo Solo io rubo tutto il grano Dei villaggi Eh, come Ci siamo anche solo noi Lo dici te Che ci siamo solo noi Dici che c'è Quello che ci spia Qui intorno No, ma Gli zombie di questa patch Sono più intelligenti Magari hanno anche cominciato Sono a sue fatti dal pane Magari Che ne sai Vabbè A sue fatti dal pane Non ci sono pecore qua Comunque, no Cioè Oh, mi sa che siamo quasi arrivati Un paesaggio che Mi ricorda Qualcosa O sono io Che mi sto immaginando Ma Possibile che siamo quasi Arrivati Il giorno in cui Imparerò a saltare Boh, qui ci andiamo anche un po' avanti Ah no Forse Era solamente un altro deserto E allora niente di che Seguiamo la bussola Seguiamo la bussola Right Se il mio minecraft Pollo Laggasse Ecco Eh Eh ma Quanto strada c'è da fare Wey Qui ci sono poli ovunque O poli sugli alberi Ma Dove siamo andati ad abitare Wanda Non lo so In un brutto posto Quello è sicuro Oh ciò che hai detto Un po' è anche notte Dave Non posso farci niente Ma no Ma temo che siamo Quasi arrivati Temo Spero Che siamo quasi arrivati Sì dai Questo qua è il deserto Del nostro spawn Un creeper Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Ok Wanda blew up Grazie No Ok No ma che blew up Eh non si sa mai Non è mai successo All'altro non è vero Cosa vado a pensare Già Ma infatti Cioè Ma io quando mai Fin per carità Wanda che muore su minecraft Ragazzi Ma sì Cioè Cosa non mi tocca sentire Ma te se io muoio qui O te Ho trovato lo spawn point Wanda Sì 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 Qua Come fai l'ho trovato Che ho davanti io A te Boh Segui la bussola E lo trovi anche te Non è difficilissima Ah beh È un po' Alla faccia del guanda Più avanti di me Ok Si tratta Or dunque Ah qua è la prima Crafting table Che vi ho messo Aspetta che vi prendo Sì anche questa Trattasi or dunque Di trovare un Un'ubicazione Per Per seguire il corso Dei nostri episodi Ragion per cui Wanda Qualche idea Qualche idea Qualche idea Beh Secondo me Anche se è un po' distante In quel posto dovevamo prima Non è a malvagio Va bene Anche perché comunque Cioè Aspetta Io ho una spada Almeno Si che ce l'ho Io ho una spada No non ce l'ho Fa niente Combatti te Io ti potergo Esatto E vedi di proteggermi bene Se no Non voglio perdere tutto Vabbè Ok Quindi rimaniamo Sul limitare Qua Sulla zona Limitrfa Qua Adiacente Qua Ma si quindi Ehi Ehi Tu uomo Easy Ehi Oh Ok ciao Mi ha fatto un piacere Questo episodio Come sconfiggere uno zombie Con un piccone di diamante Tutto è possibile Con un piccone di diamante Senza beccare un hit Hola Ok Questo posto Mi spia Tanto Bene E sia qua dunque E sia qua dunque La nostra ubicazione Per la notte Beh per la notte Per il proseguo Sembra che qualcuno Abbia spianato la strada Giusto per noi Gwanda Ci hai pensato Vabbè Nel caso qua Ho trovato un po' di Risorse Fatto proprio male Questo pezzo qua Però Si proprio Si mi ha staccato A malo modo Dalla Dalla crossa terrestre In qualche modo Gwanda Io non ho la spada Ti ricordo Che io non ho la spada Guarda Allora guarda Come si gioca di testa Guarda Guarda Con F1 Ti trapsa Cosa Perché non è morto Bleh Stupido zombie Gwanda Ha le trese Con I mostri Benissimo Ho c'ho quanti creep Ok Non so perché Ho voglia di andare Uccidere il creep No No Pessimo Ok mi sta passando La voglia Mi sta passando La voglia Gwanda Mi pongano Gwanda mi pongano Dove 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 sei Arrivo arrivo Non esplodere Non esplodere Ok mio Arrivo Ok Sit down Questo qua è una specie di Combat Combat arms qua Combattimento Fino Cosa Ma che ne so io Ok 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 Poi lo facciamo qua la casa Sì sì Ma Tu che piccone in mano Può sembrare Un'arma Inoffensiva Ecco Io non ho Io non ho l'armatura Gwanda mi esplode un creeper Adosso Puoi dire a dio Tutto quanto Proteggimi Sì 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 va bene così non è colpa tua Quindi facciamo qui centrale? Di tutti i posti che ho visto sì 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 possibilmente è il migliore Ok oh abbiamo anche la legna eh no terra vattene Eh sì poi non ho spazio devi ti sputo da un po' di over Sì perché io invece ho tantissimo spazio già ho spazio da vendere cosa vuoi toh ciappa tutto la allora ah hai dettagli si 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 mettilo un po' in giro io non ho posto non ho posto mettete qualcuno in giro cosa vuole quello scheletto lì cosa cosa non lo so non lo so mai più allora facciamo una bella casettona gigante beh ho cio dei ho cio dei ho cio dei vattene via 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 ah aiuto aiuto basta via 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 eh no ok no pessimo chi è che ti ha fatto un pelo che non hai no 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 no